È una calma apparente quella che sta caratterizzando questo primo scorcio di campagna elettorale, almeno in Campania. Il circo della politica, quello dei comizi, dei volti dei candidati sui manifesti di ogni forma e dimensione stenta a decollare, ma nel segreto delle stanze, delle segreterie e dei partiti la febbre per un seggio in Parlamento è già scoppiata. Tra chi viene tirato per la giacca su tutto il sindaco Manfredi, costretto a smentire una sua eventuale candidatura, e chi si lancia in avanti annunciando la propria disponibilità. Il tempo di decidere alleanze e strategie nei loft romani che poi in Campania ci si regolerà di conseguenza. Sponda centro-sinistra, anche se per molti è una forzatura definirla ancora tale, tiene banco il possibile accordo tra Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda, dopo che è saltato il banco con il Partito Democratico di Enrico Letta, a cui ora non resta che provare a ricucire con il Movimento 5 Stelle. Nelle liste, Alfieri di Azione Campania sarà una donna simbolo di Forza Italia fino a poco tempo fa, l'ex ministro Mara Garfagna. Scalda ai motori anche il segretario regionale del Partito Azione, Giuseppe Sommese. Della serie Toki si rivede, prova a chiedere il voto ai suoi concittadini, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. La sua Unione Popolare però dovrà raccogliere prima 35.000 firme per potersi iscrivere alla corsa per il Parlamento. Nuovi assetti regionali per il Movimento 5 Stelle, Orfano di Luigi Di Maio, che in Campania potrebbe candidare personaggi simbolo della lotta alla criminalità, come l'ex procuratore antimafia Cafiero De Rao. Nel centrodestra Forza Italia, che sul territorio ha incassato la perdita anche di uno storico portavoti, come il deputato Paolo Russo, passato anche lui con calenda, il coordinatore Martuscello tratta con il sempre in pista Clemente Mastella. Sul piatto anche un seggio per la consorte Sandra Leonardo. Circolato nelle ultime ore anche il nome di Catello Maresca, ma per la Lega dovrebbe essere confermata la candidatura dei tre uscenti Gianluca Cantalamessa, Pina Castello e Francesco Urraro, con l'incognita rappresentata dal consigliere regionale della Campania Severino Nappi. Bisognerà almeno aspettare la nuova convocazione del tavolo nazionale del centrodestra.